La visita istituzionale questa mattina al Palazzo di Città Biancavilla dell'assessore regionale al turismo e deputato regionale Anthony Barbagallo. L'onorevole ha suggerito le possibili iniziative da programmare grazie ai finanziamenti regionali. In cantiere molte proposte culturali, sportive, turistiche ed enogastronomiche. Tra le proposte dell'assessore, le quali dovranno poi essere discusse in consiglio comunale, spettacoli teatrali, il potenziamento dell'ufficio turistico, la creazione di eventi sportivi come la probabile tappa del Giro d'Italia e poi l'organizzazione di sagre come quella del Fico d'India e altri spettacoli in concomitanza con la festa patronale. Altre probabilità accennate da Barbagallo, quella di totare il teatro comunale di attrezzatura cinematografica. Presente all'incontro tra gli altri il sindaco Pippo Glorioso, alcuni membri della giunta e alcuni consiglieri. Alla fine dell'incontro il sindaco ha omaggiato l'assessore di una riproduzione del quadro della Madonna dell'Elemosina. Ai microfoni di IV24 l'assessore regionale al turismo e deputato regionale Anthony Barbagallo. Quali sono le iniziative in progetto per Biancavilla? Sicuramente Biancavilla ha tutte le caratteristiche, essendo uno dei 42 comuni del CUNES, dei comuni UNESCO e della regione siciliana, per essere valorizzata. È una città dove l'amministrazione comunale sta facendo un lavoro e greggio. Credo che nel media dei comuni siciliani è uno dei comuni amministrati meglio. C'è un livello dei servizi importante e quindi ha tutte le caratteristiche per essere promozionata dal punto di vista turistico. Su tutti i prodotti turistici, il turismo religioso, quello culturale, quello enogastronomico e quello naturalistico. L'impegno dell'assessorato è quello di valorizzarlo all'interno di questi percorsi con i due operator e anche di accompagnare le iniziative tradizionali, come la festa di San Blasio, i momenti estivi, con degli eventi, spettacoli per sostenere l'offerta turistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.